Musica Bentornato Godiler, bentornata Continuiamo a spiegare le reti gablate e wireless Ti porterò ora a visionare come creare la tua prima rete Avvia e esplora risorse Clicca sul pulsante gruppo home E al centro troverai il pulsante crea un gruppo home Cliccaci sopra Successivamente si aprirà una schermata Nella quale potrai selezionare gli elementi che vorrai condividere all'interno della rete E in seguito clicca su avanti Si presenterà una nuova schermata che avrà una durata orientativa di pochi secondi Al cui termine avrai in visione una password alfanumerica che ti servirà poi per far accedere gli altri computer al gruppo di lavoro Ecco qui un esempio Potrai decidere di scrivere o stampare questa password che in seguito dovrai inserire negli altri computer Avrai comunque sempre in seguito la possibilità di visionarla Clicca quindi sul pulsante fine per uscire dalla procedura guidata A questo punto avrai terminato la creazione del tuo primo gruppo di lavoro con una condivisione in rete di file e stampanti Avrai notato quanto è semplice Ora dovrai connettere gli altri computer a questa nuova rete Potrai collegarli tramite modem o router se ne hai l'opportunità dal punto di vista del numero di interfacce Su ogni altro computer dovrai replicare questa procedura Aprendo allora Esplora Risorse e cliccando sul pulsante Gruppo Home Noterai il pulsante Partecipa Ora sul quale dovrai cliccare Seleziona come in precedenza gli elementi che vorrai condividere all'interno di questo gruppo di lavoro E clicca poi su Avanti Dovrai inserire a questo punto la password che avrai ricevuto durante la prima configurazione Dopodiché clicca pure sul pulsante Avanti Dopo qualche secondo se tutto funziona correttamente Avrai la notifica che questo nuovo computer fa parte da questo momento in poi del gruppo Home Clicca su Fine per uscire dalla procedura guidata Riaprendo Esplora Risorse Ora noterai all'interno della rete due dispositivi Ognuno con un nome ben definito Ora potrai decidere di condividere all'interno di questi due componenti I file e le cartelle o le risorse hardware che vorrai Ecco subito spiegato come fare Se non vuoi condividere le cartelle già presenti e pubbliche All'interno dei vari dispositivi rese pubbliche proprio di default Dall'installazione del sistema operativo Ne potrai creare una personalizzata Denominandola come meglio credi Una volta che avrai creato una cartella condivisa Potrai fornire le autorizzazioni di accesso necessarie Alla cartella e ai file contenuti in esso Potrai infatti decidere di selezionare una condivisione in sola lettura Oppure completa Fornendo la possibilità anche di scrivere e inserire o rimuovere file all'interno di questa cartella Ti sarà sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse Dal menu che si genera individuare il pulsante condividi con E selezionare le autorizzazioni o solo lettura Oppure gruppo home lettura scrittura Ricorda che in quest'ultimo caso Gli utenti del gruppo di lavoro della rete Possono leggere e scrivere e quindi modificare i file Ma soprattutto inserirne di nuovi o cancellarli E in alcuni casi anche rimuovere l'intera cartella Procedi eventualmente per un backup di sicurezza Ora tutti gli utenti che accederanno a questa rete Avranno questa cartella condivisa tramite Esplora Risorse dal loro computer A tua volta dal tuo computer potrai visionare e interagire Ciò che gli utenti avranno deciso di condividere all'interno della rete da quel dispositivo Se vuoi rimuovere la cartella creata dalla condivisione O la cancelli oppure rimuovi la condivisione dalla stessa Puoi farlo cliccando con il pulsante destro del mouse sulla cartella Andando sempre a individuare il pulsante condividi con E a questo punto selezionando con nessuno Avrai inibito la possibilità di accedere al contenuto della cartella Gli utenti vedranno ancora la cartella ma non potranno interagire con la stessa Avendo perso le autorizzazioni necessarie Sull'icona della cartella noteranno il lucchetto che indicherà proprio l'inibizione all'accesso Naturalmente potrai anche rimuovere la condivisione uscendo dal gruppo home Ma questa operazione ti renderà impossibile anche per te accedere ai file e alle cartelle E comunque alle risorse fornite dagli altri utenti del gruppo Per fare ciò apri esplora risorse cliccando sul pulsante home E successivamente su visualizza impostazioni del gruppo home Troverai vari pulsanti Ma cliccando sul pulsante esci dal gruppo home E successivamente ad un'ulteriore conferma Uscirai dal gruppo e non avrai più opportunità di accedere alle risorse Non sarà comunque un'uscita irreversibile In quanto potrai sempre accedere nuovamente al gruppo di lavoro Cliccando sul pulsante partecipa ora Ed inserendo di nuovo la password memorizzata precedentemente Una nota Se però tutti gli utenti di quel gruppo home Dovessero uscire anche in tempi diversi dallo stesso Non esisterà più il gruppo di lavoro Per cui non sarà più possibile condividere risorse hardware e software Qualora fosse necessario condividerle di nuovo Bisognerà ripetere da capo tutta la procedura Creando di nuovo un gruppo E utilizzando ovviamente una nuova password La gestione della condivisione può avvenire in maniera avanzata Accedendo proprio alla sezione relativa Quindi cliccando sul pulsante Modifica impostazioni di condivisione avanzate Dalla schermata successiva avrai due pulsanti Uno domestico o lavoro E l'altro pubblico Naturalmente clicca sul pulsante domestico o lavoro Nel caso in cui la tua rete non sia completamente pubblica Potrai così selezionare alcune opzioni Potrai attivare o meno l'individuazione di una rete Da parte dei vari computer che accedono ad essa Potrai attivare o meno la condivisione di file o stampanti Attivare anche la condivisione delle cartelle pubbliche Individuabili all'interno della cartella raccolte Di Explorer Resources Potrai attivare o meno i flussi multimediali In modo da poter consentire o bloccare L'accesso ai contenuti multimediali Presenti nel tuo computer Da parte degli altri dispositivi Potrai anche scegliere una cifratura di sicurezza Per la condivisione con una password Di lunghezza diversa in base al sistema operativo Potrai attivare o meno la condivisione dei file dietro password Oppure dare un ulteriore assaggio di sicurezza alla rete Potendo impostare o meno l'accesso ai vari computer della rete Con nome utente e password Qui rappresentata una figura che riepiloga rapidamente Quanto appena esposto Quindi tu potrai andare a selezionare o deselezionare In base alle tue scelte, alle tue necessità Ciò che meglio credi Per la sicurezza e la condivisione di file e risorse Dopo aver eseguito i vari cambiamenti Naturalmente ricordati di salvarli Allora eccoci all'interno del mio desktop Per creare un gruppo di lavoro di condivisione Dopo aver aperto Esplora Risorse Clicca su Gruppo Home Successivamente nella zona centrale Troverai il pulsante Crea Gruppo Home Cliccaci pure sopra Nella finestra che si aprirà Potrai decidere di selezionare Gli elementi che vorrai condividere All'interno del gruppo di lavoro Dopodiché clicca su Avanti Dopo qualche secondo Noterai una password Che dovrai trascrivere oppure stampare Password che ti sarà utile Per poter far accedere Altri computer Al gruppo di lavoro Che avrai scelto Al termine Dopo averla trascritta Clicca pure su Fine Per uscire dalla procedura Avrai in questo modo Creato Il gruppo di lavoro Al quale dovrai Far accedere Altri computer La password che sarà Stata generata Potrà essere visionabile In qualsiasi momento Cliccando su questo pulsante Anche qui potrai Trascriverla Oppure stamparla Nella sezione centrale Visualizza impostazioni Gruppo Home Potrai visionare appunto Le impostazioni Clicchiamoci sopra E andiamo a vedere Cosa si presenta Con questi segni di spunta Poi decidere di cambiare Gli elementi da condividere All'interno del gruppo di lavoro Tramite questo segno di spunta Trasmetti flussi di immagini Musica e video Ai dispositivi connessi Alla rete domestica Ti permetterà proprio Di far utilizzare I tuoi file multimediali All'interno del gruppo di lavoro Tramite questi alti pulsanti Potrai visualizzare Stampare la password Come abbiamo in precedenza visto Oppure cambiare la password Del gruppo di lavoro Uscire dal gruppo di lavoro Modificare le impostazioni Di condivisioni avanzate Infatti da qua potrai decidere Di selezionare Cosa andare a modificare Se il gruppo di lavoro Domestico oppure pubblico In questo caso potrai decidere Di attivare o disattivare L'individuazione della rete Ogni qualvolta un computer Accede ad essa Attivare o disattivare La condivisione Di file stampanti Attivare o disattivare La presenza Delle cartelle pubbliche Quelle che normalmente Sono già attive Di default All'interno del sistema operativo Cartelle che sono visibili Da esplora risorse I flussi multimediali Sono già attivi Per quel che riguarda La cifratura In questa sezione Puoi selezionare Se la criptografia Deve avvenire A 128 bit Oppure 40 O 56 In base al tipo Di cifratura Utilizzata Dal dispositivo O dal sistema operativo La condivisione protetta Da password Ti permetterà Di fare in modo tale Che l'accesso Alla condivisione Di file O stampanti Potrà avvenire Solo dopo aver Inserito Un account Utente Ed una password Cosa che potrai Anche attivare Già per il semplice Accesso Al gruppo Home Selezionando Questo segno Di spunta Ricorda Al termine Di salvare I cambiamenti Cliccando su questo Pulsante Qualora dovessi Aver qualche problema All'interno del gruppo Potrai sempre far uso Della guida In linea Ora All'interno di Una partizione Creerò Una cartella Condivisa Che poi Verrà Utilizzata Anche dagli altri Utenti Presenti all'interno Di questo gruppo Clicchiamo sul Pulsante Nuova cartella E la chiamiamo Proprio Cartella condivisa Una volta Creata la cartella Andiamo adesso A fornire Le autorizzazioni Necessarie A questa cartella Condivisa Cliccando Con il pulsante Destro del mouse Individa Condividi con Potrai decidere Di fornire L'autorizzazione Alla sola lettura Di questa cartella Oppure Dare piena autorità Cosa che faremo In questo istante Dare piena autorità In lettura Scrittura E quindi Sarà possibile Variare Leggere Ed anche Cancellare Il contenuto Di questa cartella All'interno Inseriamo pure Un'immagine Immagine Che Sarà Condivisa All'interno Del gruppo Di lavoro La cosa che Volevo farti notare È la presenza Del pulsante Rete All'interno Del quale Troverai Anche in questo caso Tutti i dispositivi Che faranno parte Della rete E anche qui La cartella Condivisa La differenza Rispetto Alla visualizzazione Del gruppo Home È che Non noterai La presenza Del tuo Computer All'interno Di questo Gruppo Mentre All'interno Della rete Ci sarà Presente Il tuo Computer E tutti Quelli Che faranno Parte Del gruppo Di lavoro Qualora Tu voglia Rimuovere La cartella Sarà Sarà Sufficiente Regarti Nella zona Dove È presente Dove è stata Creata Questa cartella E potrai O Rimuovere La condivisione Selezionando Dal menu Che si crea Con il pulsante Destro Il pulsante Condividi E cliccando Su Nessuno Comparirà Dopo qualche Secondo Un lucchetto Che indicherà Che questa cartella Non avrà Più possibilità Di essere condivisa All'interno Degli utenti Del gruppo Di lavoro Oppure Potrai Tornando Alla condizione Di condivisione Totale Per rimuovere Le autorizzazioni Potrai Letteralmente Eliminarla Ad una Notifica Successiva Ti verrà Indicato Che questa È una cartella Condivisa E nessun Altro Utente Avrà L'opportunità Più di accedere Al contenuto Della stessa Continuando Elimineremo La cartella Eccomi quindi All'interno Del notebook Dopo aver Aperto Esplorare Risorse Clicca pure Sul gruppo Home E successivamente Sul pulsante Partecipa Ora Selezioniamo Tutti Gli elementi Da condividere All'interno Di questo Gruppo Di lavoro E ora Inseriamo La password Che abbiamo Visionato Dalla precedente Configurazione Ti ricordo Che la password Sarà Diversa A seconda Della Rete Che andrai A creare E cambierà Ogni qualvolta Ne genererai Una nuova Cura L'inserimento Delle Maiuscole E minuscole Perché ciò È discriminante All'interno Della configurazione Dopo aver inserito Clicca pure Su avanti Dopo qualche Secondo Se tutto È andato Per il verso Giusto Questo Notebook Farà parte Della Rete Del gruppo Di lavoro Cosa che è avvenuta Infatti Ora Viene notificato A schermo Proprio Questo fatto Clicca pure Su fine E all'interno Del gruppo Di lavoro Naturalmente Troverai Il pc Desktop E all'interno Di essa La cartella Che ho messo In condivisione Al cui interno C'è una Immagine Che nella Fattispecie È l'immagine Della nostra Pasquina In qualsiasi Momento Tu puoi Alterare Le informazioni Di questa Cartella Andando a Rinominarla Sostituirla Cambiarla Fin anche A rimuovere La stessa In tempo reale Questa Variazione Avverrà All'interno Di tutti I computer Della rete In quanto L'autorizzazione Data dall'amministratore Di questa Cartella È totale Per cui Qualora io Volessi Cancellarla Sarà sufficiente Eliminarla Dal mio Desktop In questo Caso Ad una Riesta Di rimozione Acconsentierò Cliccando su Si Avrò rimosso Questa Immagine All'interno Di tutto Il gruppo Di lavoro A questo Punto Qualora Volessi Uscire Dal gruppo Di lavoro Dovrei Raggiungere Le impostazioni Del gruppo Stesso Per uscire Start Pannello Di controllo Andrò Ad individuare Il pulsante Gruppo Home Cliccandoci Sopra Tra le varie Opzioni C'è proprio Il pulsante Esci dal gruppo Home Cliccando Su di esso Confermando L'uscita Farà Sì Che Questo Notebook Sarà Uscito Dal gruppo Di lavoro Quindi Non potrà Più Condividere Le risorse Messe a disposizione Naturalmente Questa opzione È Riaversibile Perché Cliccando Di nuovo Su Partecipa Ora Selezionando I componenti Da condividere Dovrò Semplicemente Inserire La password Che sarà Stata Creata Durante La prima Procedura E al termine Cliccare su Avanti Dopo qualche Secondo Questo computer Sarà Di nuovo Parte Della rete Infatti Da Esplora Risorse Troverò Tutte Le cartelle Pubbliche E condivise Adesso Da questo computer Andiamo a Selezionare Un'immagine Ad esempio Questa del Deserto Copiamo E Incolliamo All'interno Della cartella Condivisa Appunto L'immagine Qualora Non fosse Già In condivisione Ora Questa Immagine Si troverà All'interno Del gruppo Di lavoro E quindi Sarà possibile Accedere ad essa Da parte Di ogni Dispositivo Ti rimando Alla prossima Lezione Per continuare Il percorso Sulle reti Ora Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima Ciao a presto